Factory Grisù è un progetto di rigenerazione urbana nato qualche anno fa dalla collaborazione tra un gruppo di imprese culturali creative e l'amministrazione provinciale di Ferrara. Nasce quindi su un edificio che è l'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Ferrara, che ha perso la sua funzione storica, costruita all'inizio degli anni 20, ormai da 15 anni ha perso il ruolo di caserma dei Vigili del Fuoco ed era diventata in un quartiere caldo dal punto di vista delle problematiche sociali, un luogo abbandonato e privo di funzione. Le imprese culturali creative sono entrate con un partnership con la provincia di Ferrara e di in seguito con il comune di Ferrara che ha proseguito nella gestione del progetto, gli intenti della provincia di Ferrara, apportando non solo presenza ma anche capitali, quindi creando un progetto di finanziamento misto e di rigenerazione urbana pubblico privato che prevede l'insediamento gratuito delle imprese ma a fronte di un impegno nella ristrutturazione degli spazi utilizzati. Questo modello in seguito ha consentito il raggiungimento di un punto di equilibrio economico nella sostenibilità dell'edificio che permette anche di ospitare iniziative culturali no profit di associazioni culturali che non hanno un budget, un investimento da poter mettere in campo rispetto al progetto di rigenerazione e che quindi vengono ospitate con le loro iniziative presso la Factory sulla base di progetti che hanno finalità culturali e sociali. Grazie a tutti!